Allora, questo macchinario è un DMTA ed è stato acquistato meno di un anno fa dalla MP Strumenti. Lo abbiamo acquistato semplicemente perché avevamo la necessità di andare ad analizzare le caratteristiche dei materiali, le caratteristiche meccaniche dinamiche dei materiali al variare la temperatura. E questo macchinario era proprio quello che ci serviva a tale scopo. L'abbiamo, come dicevo, acquistato meno di un anno fa e da quel momento lo utilizziamo a pieno regime per motivi sia di ricerca che per lavori di tesi. Siamo molto soddisfatti dell'acquisto fatto perché il macchinario è abbastanza semplice da utilizzare, anche i ragazzi tesisti che lo hanno utilizzato non hanno incontrato particolari problemi, il software è molto semplice anch'esso da usare. E' un macchinario che si festa benissimo alle nostre esigenze. Abbiamo, fra l'altro, avuto a che fare per altri motivi tecnici con l'assistenza tecnica che è stata prontissima a soddisfare le nostre esigenze. Quindi anche da questo punto di vista noi ci possiamo ritenere soddisfatti e quindi speriamo di continuare a utilizzarlo e a sfruttarlo per quello che c'eravamo prefissi. Grazie. Grazie. Grazie.